Superstrada bloccata intorno alle 9 di questa mattina a causa di un incidente che avrebbe provocato tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. Alla guida del furgone è rimasto coinvolto nell'impatto il ferito in condizioni critiche. L'incidente è avvenuto stamattina lungo la superstrada Biella-Cossato nel tratto di competenza del comune di Vigliano ed ha coinvolto due veicoli, ma ferma nei pressi del luogo dello scontro anche un'autocisterna, che con tutta probabilità ha visto l'incidente, ma è riuscita a fermarsi in tempo. Si è reso necessario l'intervento dell'elicottero e sono proprio le condizioni del conducente del furgone ad essere definite più gravi. In ospedale sono finite anche madre e figlia che viaggiavano sull'auto. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia stradale e per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanze del 118 e polizia locale. Per chi era diretto a Biella è stato dirottato tutto il traffico all'uscita di Vigliano biellese.